I rischi per le prospettive economiche dell'area dell'euro restano orientati al ribasso, in particolare il recente indebolimento della dinamica di crescita nell'area dell'euro unitamente all'acquisto dei rischi geopolitici potrebbe ripercuotersi sul clima di fiducia e sugli investimenti privati. Inoltre progressi insufficienti sul fronte delle riforme strutturali nei paesi dell'area rappresentano un rischio cruciale al ribasso per le prospettive economiche. Secondo, la stima rapida dell'euro nell'area dell'euro, l'inflazione sui 12 mesi misurata sull'IAPC si è collocata in settembre allo 0,3 e dopo lo 0,4 di agosto. Rispetto al mese precedente questo andamento riflette un calo più marcato dei prezzi dell'energia e rispetto in cari lievemente inferiori per la maggior parte delle altre componenti dell'IAPC.